Musica Benvenuti a questa nuova edizione di TR24 Sport in apertura. Ora dedichiamoci subito al basket e parliamo dell'ultimo atto della serie playoff contro Orzi Nuovi per l'Amadori Cesena che questa sera scenderà in campo nella decisiva gara 5 che si disputerà al Palambienti in Lombardia. In palio c'è l'accesso alla Final Four di Montecatini per conquistare la promozione in A2. Vediamo. Vigilia di gara 5 con Ordi Nuovi. Siamo iniziando a stampa con il coach Gianpaolo Di Lorenzo. Ultime novità? Ultime novità? Abbiamo recuperato Matteo Battisti e abbiamo fatto un bel lavoro negli ultimi 7-8 giorni per rimetterlo in campo. Questa è una novità, è un giocatore che a noi serve molto. Hai già fatto la scelta su cui tenere fuori? No, purtroppo no. È una cosa che non mi farà dormire stanotte perché credo che chiunque dei miei giocatori si merita di giocare questa partita. Per me è molto duro prendere questa decisione qua, molto molto duro. Spero i ragazzi a chi accetterà, ma gliela metto sinceramente e ci credo col fatto che giocherà la prossima. Situazione generale della squadra? Il clima è positivo, siamo concentrati, siamo in un frullatore da ben un mese. Ci siamo resi conto che giocando ripetutamente partite così importanti da dentro fuori non abbiamo nemmeno il tempo di pensare il giorno dopo a quello che è successo. C'è entusiasmo, ma c'è anche molta tranquillità. Li vedo concentrati e pronti. Anche questa sera parecchi tifosi e parecchi bambini all'ultimo allenamento? Sì, questa è una cosa molto positiva. Tanti bambini e tante famiglie a vedere una parte dell'allenamento, a fare le foto di rito fino all'allenamento. Sono le cose che riempiono il cuore e ti ci danno quel qualcosina in più. Parliamo adesso di calcio a 5. Il dopo Fabrizio Mascarucci comincia ufficialmente oggi per la Futsal Cesena. La dirigenza bianconera ha infatti deciso di affidare le chiavi della prima squadra a Matteo Vespignani dopo il divorzio con il tecnico fanese. Allenatore compatentino di esperienza e forte temperamento, già in forze da due stagioni nel settore giovanile della squadra romagnola, Vespignani ha militato come giocatore per otto stagioni nel Santa Sofia, concludendo poi la sua carriera nel Fornimpopoli, prima appunto di passare alla Futsal Cesena. Questo come detto per il calcio a 5, ma parliamo anche di ciclismo. Non è arrivato lo spunto vincente per Manuel Senni nel corso dell'ultima edizione della Giro d'Italia. Lo scadatore Cesenate del team Bardiani ha così mandato in archivio un'edizione della Corsa in Rosa, caratterizzata da diverse difficoltà, soprattutto nella fase preparatoria. Sentiamo. Quest'anno come è andata, come l'hai vissuto, anche rispetto ai precedenti, anche da un punto di vista tecnico, come appunto accennava Patrick. Ma quest'anno è stato forse il giro che sono riuscito a preparare meno, perché con l'infortunio ho dovuto fare un mese di rulli. Però devo dire che come percorso, come diceva Patrick, forse sia mancata una salita, una riva in salita nella prima settimana, una tappa dura negli appennini nella prima settimana. Il fatto che nella tappa del Mortirolo non si sia fatto lo stilvio, questo ha reso la tappa, come disse Nibali, un po' facile, perché ha detto che prima del Mortirolo non c'è stato tanto terreno in cui mettere fatica sui rivali. Mentre per il resto è stato un giro che ha lasciato abbastanza spazio alle fughe, infatti ne sono arrivate molte. Forse quello è stato l'aspetto un po' più per chi doveva vederlo da casa, che ti lasciava, ti dava suspense. Le velocità ogni anno salgono e fare la differenza è sempre più complicato, quindi diventa sempre più importante avere al fianco la squadra e saper cogliere quell'attimo che ti può dare, come ha fatto Carapaz nella tappa in cui ha conquistato la maglia rosa. Ha colto l'attimo subito e ha sfruttato la giornata che poi gli ha permesso di vincere il Giro d'Italia. Per il rugby, dopo cinque anni di assenza, il Romagna RFC di coach Simone Luci è tornato in Serie A. Soddisfazione doppia per Fabio Sgarzi agli esordi all'epoca, ora guida da capitano i giallorossi. Vediamo. Fabio Sgarzi, qual è il tuo commento al termine di questa cavalcata? È stata una grandissima impresa da parte di tutti i ragazzi, probabilmente al di fuori della cerchia del Romagna e della squadra di tifosi. A inizio del campionato nessuno avrebbe mai puntato sul Romagna RFC, perché è squadra giovanissima, con una media d'età che si aggira intorno ai 21 anni. Io sono tra i più vecchi che ne ho 29 e quindi alla fine è un risultato pazzesco perché siamo riusciti a fare un campionato veramente straordinario. Dopo cinque anni quindi il pronto ritorno tra i grandi e tu eri già presente all'epoca dell'ultima Serie A2. Sì, nell'ultima Serie A ero presente, era il mio primo anno al Romagna RFC, me lo ricordo molto bene perché fu un anno molto difficile e anche quello molto intenso ma molto bello. Diciamo che quell'anno lì avremmo potuto salvarci perché ce lo meritavamo, però in realtà nello spareggio poi alla fine ci passò davanti il Genova, quindi retrocedemmo in Serie B. Per chiudere l'obiettivo della prossima stagione quale sarà? L'obiettivo della prossima stagione? Sicuramente la salvezza, però come detto noi non ci dobbiamo dare un obiettivo, oppure ci dobbiamo dare un obiettivo, però ci dobbiamo cercare di superare questo obiettivo, un po' come abbiamo fatto quest'anno. Torna vincente da Marsiglia, Luca Rosetti. Lo skipper ha infatti trionfato al 6.50 Mini Mad. L'obiettivo ora è la prima attraversata oceanica in solitaria, in programma il 22 settembre, ma prima il 24enne bolognese affronterà l'ultimo test a Les Sables d'Olonne in Francia a luglio. Vediamo. Luca Rosetti, un secondo posto a Marsiglia nel 6.50 Mini Mad, che si è trasformato in successo a causa di una penalità del tuo principale avversario. Sono davvero contento della mia prestazione e a sorpresa alla premiazione ho scoperto che il mio avversario è stato penalizzato in termini di tempo, per cui il mio secondo posto è diventato una vittoria, ma per me è lui il vincitore, dato che è stato penalizzato per aver aiutato un altro concorrente e aver finito la regata in doppio invece che in solitario. Un percorso che si è snodato appunto tra Marsiglia e Genova per poi tornare indietro, modificato però a causa delle avverse condizioni meteo. Sì, dovevamo andare nel sud della Corsica, invece ci hanno spostato un waypoint nel mezzo del Golfo di Genova, poco a sud di Genova, perché nel Golfo del Leone c'era vento oltre 40 nodi, insomma per preservare le barche ci hanno spostato un po' più a nord. Con questo ultimo successo, ripercorrendo appunto il percorso che hai iniziato tre anni fa, ti sei qualificato alla Mini Transat del 22 settembre, che è la traversata oceanica in solitaria. Ho completato il percorso di qualifica l'anno scorso e adesso sono qualificato per la Mini Transat che partirà il 22 settembre, quella è la regata principe della classe Mini 650. Ricordiamo, sarà la tua prima attraversata oceanica in solitaria? Sarà la mia prima attraversata oceanica in solitaria, infatti inizia a salire un po' di ansia, un po' di paura. Samori, all in per il Rimini. Il gruppo dell'imprenditore modenese ha incontrato il patron Grassi, incassato giovedì il no all'offerta per il 60%, ieri il rilancio con la richiesta dell'intero pacchetto di quote. Così titola il Corriere di Romagna, ma si parla invece delle nazionali, si può dire così, per quanto riguarda il resto del Carlino. Venti d'Azzurro, infatti, impresa dell'Under 20 che batte il Mali ed è in semifinale mondiale. Una carica per l'Italia del Mancio, stasera di scena in Grecia per le qualificazioni agli europei. E allora rimaniamo proprio su questo tema, lo facciamo grazie all'opinione di Luciano Poggi. Già lo avevamo detto, ma è ovvio che era quasi come scoprire l'acqua calda, perché si respirava una nuova aria con l'arrivo di Roberto Mancini in nazionale, ma soprattutto dopo quello che era accaduto nell'ultimo mondiale con l'Italia che non era riuscita a qualificarsi per le fasi finali. Si respirava una nuova aria ed è arrivato, è arrivata in un certo senso la conferma, indipendentemente poi dai risultati o da quello che si potrà riuscire a vincere. Ma sta di fatto che l'Under 20 sta facendo meraviglie in Polonia, nei mondiali, dove è in semifinale. L'Under 19 è arrivata alla finale degli europei. L'Italia si appresta a giocare, l'Italia maggiore si appresta a giocare alcune partite per arrivare agli europei del 2020. Stanno per iniziare gli europei, Under 21 e la nazionale femminile è pronta per giocarsi il mondiale in Francia, cosa che accade per la prima volta. Insomma, dicevo, si capiva che si respirava un'aria nuova. All'insegna di cosa? Beh, all'insegna della meritocrazia. Finalmente in nazionale, in tutte le nazionali, si è cominciato a ragionare dicendo convochiamo quelli che in quel preciso momento stanno meglio e i frutti si vedono. È tutto allora per questa nostra edizione di TR24 Sport. Grazie per essere stati qui con noi. Arrivederci. Grazie.